Buongiorno, oggi vi ho registrato qualche piccola clip e vi sto tuttora registrando, però registriamo l'introduzione adesso finché sono ancora presentabile perché Mirko mi ha costretto a fare questa baseggiata naturalistica oggi, prima che io muoia decido di registrare l'introduzione così avrete un senso a tutte le piccole clip che verranno dopo vi lascio tutte le informazioni sul percorso che stiamo facendo, nel percorso 9 si chiama Gola dell'Infernaccio del Parco dei Sibillini e vi lascio sotto i siti dei Sibillini e tutte le informazioni che trovate al riguardo anche perché io e Gianni capisco poco quanto sto bene figurarsi quanto sono queste condizioni, Otto ci sta abbandonando, ciao! Grazie a tutti! 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 via! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ! a tutti! a tutti! ! a tutti! ! 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